ciao ragazzi bentornati sul canale di sgiri oggi parliamo di un argomento un po particolare il problema del course il cosiddetto problema del course perché dobbiamo parlare di questo argomento perché se vi ricordate nello scorso video vi ho fatto diciamo ho iniziato questa piccola serie sul full stack dico piccola perché questa serie potrebbe essere enorme quanto potrebbe essere piccola se mi limito a dire le cose essenziali perché ovviamente non si può spiegare il full stack c'è col full stack si intende tutto quindi parte che questo caso stiamo parlando di tecnologia quindi lara della vgs quindi ci limitiamo al full stack rispetto a queste due tecnologie generalizzando il discorso questo argomento che trattiamo il corso viene diciamo bisogna applicarlo un po qualsiasi tecnologia quando quando si ha a che fare con un server rest quindi una parte back end è un front end che deve comunicare con questo server che cosa succede che abbiamo il cosiddetto problema del course che cos'è il course il course tradotto o meglio in lingua originale significa cross origin http request quindi il cosiddetto course ora qui vi faccio vedere il sito diciamo di mozilla dove viene un po illustrato quello che il problema del course però sostanzialmente che cosa succede che se voi avete quest'application è la parte server quindi la parte del dei servizi che abbiamo se vi ricordate l'altra volta abbiamo configurato nello scorso video restlet per andare a comunicare con il nostro con il nostro server no non sulla parte back end ecco questa applicazione vgs che poi inizierò a spiegarvi mano mano come l'ho costruita come si fa però quello che voglio mostrare adesso è che se noi in questo caso io vado a fare la login in questo caso ho un problema sul corso che succede che quando io vado a fare una chiamata se notate in questo punto qui abbiamo questo problema qui dice questa chiamata è stata bloccata per la policy del corso quindi la responsa bla 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 e non non è valida quindi il come se il server non ci accetta perché questo perché che cosa succede questo corso che cosa serve serve praticamente quando abbiamo un client che richiede una risorsa sostanzialmente di un differente dominio quindi questo client in particolare il 127.0.0.1 comporta 80 80 sta richiedendo dei servizi al 127.0.1 2.8 mila quando quindi una web application x vuole richiedere una risorsa di un dominio y questa risorsa deve essere abilitata su y quindi deve essere abilitata sul back end come vedete qui è bloccato come si fa nella nostra applicazione quella che se vi ricordate il video uno dei primi video pubblicato sul gvt come si fa la nostra applicazione ad abilitare il corso ecco bisogna per quanto riguarda l'aravel bisogna andare ad a sistemare appunto dei plugin che sono stati creati ad hoc per ritrovare questo problema in particolare che cosa dobbiamo fare dovremmo andare a inserire nel leader quindi l'intestazione della chiamata dovremmo andare a inserire quello che è il permesso per il client di poter usufruire di quei servizi come si fa questo questo qui si fa appunto tramite dei plugin se notate il nostro client fa delle chiamate di tipo option in realtà io non sto facendo una option qui io sto chiedendo una post perché perché proprio per come è fatto il corso che cosa succede che viene fatta una chiamata viene chiamata chiamati pre fly che significa chiamati pre fly significa che lui fa una option e va a verificare appunto se sul server può effettivamente andare a fare una richiesta come vedete già questa option è negata perché dice il server tu mi non sei accettato su questo serve per fare chiamate quindi parliamo del client appunto di bgs quindi non può fare in questo momento chiamate perché appunto nella chiamata di pre fly quindi qualunque chiamata noi facciamo lui farà sempre una pre fly prima quindi che sarà una option quindi tradotta in termini diciamo di chiamate rest sarà una option e la option è bloccata quindi se la option lui farà la pre fly dopo la pre fly farà la richiesta normale quindi la richiesta normale quindi in questo caso era una post nel caso in cui sarebbe tutto configurato per bene lui fa la option la option risponde col 200 ok da parte del server e quindi poi lui passa a fare quella che è la posto la get diciamo la chiamata che è stata scritta nel codice ecco che cosa dobbiamo fare quindi noi nella nostra applicazione dobbiamo andare a sterillare un plugin mi basta scrivere su google laravel course e viscono due plugin questo plugin qui berry vt h laravel course qual è quel problema io l'ho provato questo plugin questo plugin funzionava perfettamente fino alla versione 5.6 di laravel dopodiché nella 5.7 non so per quale motivo non sta più funzionando era un plugin molto carino molto più semplice rispetto a quell'altro che invece vi mostro da poco e però a quanto pare non sta funzionando bene ho visto anche tantissimi form dove è scritto che questo appunto problema sta dando problemi questo plugin sulla 5.7 laravel e quindi niente andiamo direttamente al secondo link di google che è un altro plugin è questo plugin qui che dobbiamo andare a installarlo sul nostro server per installarlo semplicemente basta lanciare questo comando qui aggiungere al provider questo qui e lanciare questo comando qui che andrà a generare un file di config nella cartella config che si chiama course.php una volta installato questo vedrete che la nostra applicazione andrà io questa cosa l'ho già fatta quindi allineo il codice e vado a fare il pull del codice sul mio course update ok vado sull'aravelle faccio php composer install perchè ovviamente c'ho delle librerie nuove install voi che cosa dovete fare una volta che avete l'applicazione semplicemente prendete questo comando qui questo qui lo incollate sulla riga di comando qui e lo fate partire lui installerà dei plugin le librerie dopo di che andate nel file nel kernel.php di laravel quindi andate in questo file ctrl p kernel.php in questo file e andate inserire nei midware spati course class questo qui semplicemente questo qui spati course class dopo di che andate sulla linea di comando lanciate di nuovo questo comando e vi genera all'interno di config vi genera il file course.php qui dentro potete configurare il course però al momento non mi interessa molto la riga diciamo fondamentale che mi interessa è questa qui come vedete qui c'è un asterisco significa che può permettere a qualsiasi origine quindi adesso qualunque sito che fa la richiesta al nostro server al nostro server rest verrà accettato in tal caso se noi volessimo limitare comunque fare una whitelist una blacklist di quelli che sono indirizzi in questo caso noi potremmo mettere qui per esempio localhost due punti 80 80 e limiteremo le chiamate soltanto a questo client per il momento lasciamo tutto come sta quindi io l'ho installato rinarriranno laravel torno al mio view js ok vado a fare la login profile come vedete non c'è nessun più tipo di problema sul pre fly quindi non c'è più il problema di non accettazione delle richieste quindi adesso il nostro client è ben configurato e quindi nella prossima lezione potremmo andare a esplorare diciamo quella che sta questa mini applicazione che ho creato io che fa sostanzialmente tutta la parte di autenticazione sul server quindi fa tutta quella cosa che vi ho fatto nella relazione scorsa fatta configurata su restlet ma portata su view js quindi vengono fatte tutte le chiamate con axios viene fatta la login quindi poi vengono anche presi dati da parte dell'utente e e poi c'è la classica chiamata di logout quindi andiamo a vedere tutto come si comincia a formare una un'applicazione web con view js questa lezione diciamo questa mini questo mini video era per spiegarvi appunto il corso e farvi capire quali sono le problematiche del corso problematiche del corso quindi voi anche se in futuro avete questo problema ricordate che ci sono sempre delle librerie che vi aiutano a sistemare quello che leader delle vostre chiamate quindi per quanto riguarda il problema del corso o semplicemente potete agganciare al leader della chiamata potete agganciare il fatto che l'origine deve essere sempre permessa quindi questa cosa qui all'origine deve esserci sempre quindi se noi facciamo la chiamata adesso di login vedete che nel leader come vedete qui nel leader c'è access contro all of origin c'è l'asterisco quindi ci sono tutti sono permessi semplicemente viene configurato leader del del back end in modo tale che deve avere sempre questa qui quindi anche se non avete librerie vi basta semplicemente andare a lavorare su leader http e aggiungendo queste stringa qui poi ci sono altri parametri però adesso non ci interessa quello che ci interessava il cor di questa diciamo di questo video era questa cosa qui quindi adesso abbiamo la nostra app pronta a funzionare quindi nel prossimo video vi farò vedere come e diciamo inizializzare un app vgs diciamo dal punto di vista più enterprise quindi come strutturarla e come iniziare a fare le chiamate e costruire tutto diciamo l'architettura di una di un'applicazione abbastanza complessa ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi dai gd ciao ragazzi stavo montando il video e mi sono accorto di una cosa non vi ho detto che comunque su gtab.com slash isgd potete trovare il codice sorgente per quanto riguarda la parte di jvt sull'aravel lo trovate qui sull'aravel jvt isgd qui adesso vi andrò a committare diciamo le ultime modifiche che ho fatto e quelle appunto per il corso potete direttamente scaricare questa application configurarvi la parte restlet e cominciare a lavorare poi direttamente su tap vgs senza preoccuparvi di quello che farà il server io poi di volta in volta andrò ad aggiornare il back end in modo tale da rimanere tutti quanti allineati niente ragazzi ci vediamo nei prossimi video ciao 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 ciao